L'artista esistenzialista, buonasera a tutti, c'è un aforisma con una digitalizzazione su un gigante, un titano, dal riccioluto a chioma, quindi un fisico statuario, una sorta di bronzo di ace e burni per certi pezzi, quindi digitalizzato. Ho scritto ciò. Ciondola quell'ondulosa chioma folle non curante di un ciclico tempo infame, mentre quei erboluti, tricipiti e burni si adagian, fidere e parsimoniosi, accanto a quelle spigolose ginocchiaudaci, mentre una bluastra nottata gelida bacia l'assoluto. Cosa vuol dire tutto ciò? C'è un'ondulosa chioma, un'ondulosa chioma che è morbida, meglifla, una chioma che in pratica quasi come si fluttuasse, giovane all'infinito, in modo alquanto, diciamo, frivolo, folle, forse anche per certi versi incoerente, ma non curante, sembra un gioco di parole, di un folle, di un ciclico tempo infame, in un tempo che ciclicamente corre, diciamo, in modo alquanto infame, in ottica assolutissima. C'è questi tricipiti e burnei voluminosi, nerboruti, titanici, che rimangono adagiati, per certi versi, a delle ginocchia spigolosi, ma alquanto audaci, così come questo carattere abbastanza, diciamo, prorombente. E c'è una nottata, bluastra, che alquanto gelida per le preoccupazioni, magari, che ogni nottico futuristi, che bacia l'assoluto, bacia l'immenso, bacia l'infinito, fate voi. E' un po', ripeto, una rappresentazione di quello che è lo statuario, tutto quello che è il volitivo, l'audacità, lo status ardimentoso, ma poi, per certi versi, anche con un po' di parsimonio, un po' di accuratezza, tutto quello che è, diciamo, il poi, il dopo, ciò che è indecifrabile, inaspettato, futuro. L'artista esistenzialista, buona sera a tutti.